I dodici buoni. C'erano dodici fratelli che litigarono col padre tutti i dodici e se ne andarono da casa. Si costruirono una casa nel bosco e vivevano facendo i falegnani. Ai genitori nacque una bambina e si consolarono con quella. La bambina crebbe senza aver mai conosciuto i dodici fratelli. Ne aveva solo sentito parlare e aveva una gran voglia di vedere. Una volta andò a lavarsi a una fonte e prima si tolse la collana di corallo e la posò su un ramo. Passò un coro, prese la collana e volò via. La ragazza si mette a inseguire il corvo nel bosco e trovò la casa dei fratelli. In casa non c'era nessuno e la sorella fece cuocere i taglieri. Li preparò nei piatti e poi andò a scorrersi sotto un letto. Tornarono i fratelli, trovarono i taglierini già conti e apparecchiati e li mangiarono. Ma poi cominciarono ad aver paura che fosse uno scherzo delle streghe, perché il bosco di streghe ne era pieno. Uno dei dodici, domani, stette di guardia e vide la ragazza salta fuori da sotto un letto. Quando seppero che non era una strega, ma la loro sorrellina, che non avevano mai conosciuto alcuna, ne fecero molte feste e vogliono che restasse con loro. Ma le raccomandarono di non parlare con nessuno nel bosco, perché c'era pieno di streghe. La ragazza una sera si trovò senza fuoco e aveva da preparare la cena. Per far presto andò a domandare un po' di fuoco in un casolare vicino. Nel casolare c'era una vecchia che le diede il fuoco con molta gentilezza. Ma disse che in cambio, domani, sarebbe venuto a succhiarle un po' di sangue dal dito miglioro. Io non posso aprire la porta a nessuno, disse la ragazza. I miei fratelli non vogliono. Non c'è bisogno che apri la porta, disse la vecchia. Basta che, quando usso, infilo il miglioro nella topa della chiave e io lo succhio. Così la vecchia veniva ogni sera succhiata il sangue e la ragazza diventava sempre più pallida. I fratelli se ne accorsero e tanto le domandarono che confessò di essere andata per fuoco da una strega e di doverla pagare col sangue. Lascia fare loro, dissero i fratelli. Benne la strega, bussò, e siccome la ragazza non affilava il dito nella tuba, infilò lei la testa della gattaiola. Uno dei fratelli era pronto lì con una scura e le troncò il capo di me. Poi buttarono il testo e corpo della strega in un burrone. Un giorno la ragazza, andando alla fontana, incontrò un'altra vecchia che vendeva scodelle bianche. Non ho quattrini, disse la ragazza. E io te le regalo, disse la vecchia. Così i fratelli, quando tornarono a casa setati, trovarono dodici scodelle piene d'acqua. Si buttarono a me e in quel momento furono trasformati in tanti buoi. Solo il dodici, avendo poca sede, beve appena un soffio e fu trasformato in un agnello. E la sorella si trovò sola, con undici buoi e un agnello, a cui dare da mangiare tutti i giorni. Accade che un principe che andava a caccia si smarrò nel bosco. Capitò alla casa della ragazza e se ne innamorò. Le disse che voleva sposarla, ma lei rispose che doveva pensare ai suoi fratelli buoi e non poteva lasciarli. Il principe portò al palazzo lei con tutti i fratelli. La ragazza diventò la sua sposa principessa e gli unici buoi e l'agnello furono messi in una stalla di marva o un mangiatoio d'oro. Ma le streghe del bosco non si erano arrese. Un giorno la principessa passeggiava sotto la pergola della vigna con suo fratello l'agnello, che portava sempre con sé, quando gli si presentò una vecchia. Buona principessa, le dai un grappolo di uva? Sì buona vecchia, prenditi quello che vuoi, disse la principessa. Io non arrivo alla pergola, cogli quello che vuoi, si buona. Subito, disse la principessa, le alzò la mano per cogliere un grappolo. Cogli quello là, che è più una lave, disse la vecchia e indicò un grappolo sopra la cisterna. La principessa, per coglierlo, salì sul muretto della cisterna. La vecchia le dette una spinta e la principessa catteggiò. L'agnello cominciò a velare, a velare intorno alla cisterna, ma nessuno capiva cosa avesse da velare e nessuno sentiva i lamenti della principessa di laggiù in fondo. Intanto la strega aveva preso la forma della principessa e si era messa a letto. Il principe, tornando a casa, ricordava, cos'hai che sei a letto? C'è tutto male, disse la finta principessa. Ho bisogno di mangiare un pezzo d'agnello. Sgozzami, allora che non finisce mai di gridare. Allora cosa mi raccontavi prima? Fece il principe. Dicevi che quell'agnello era tuo fratello e ora te lo vuoi mangiare. La strega aveva fatto il marrone, restò lì senza sapere cosa dire. Il principe mi dice a capire che c'era qualcosa di strano. Andò in giardino e si mise a inseguire l'agnello che belava come un disperato. L'agnello andò vicino alla cisterna e il principe sentì la voce della moglie che chiamava. Che fai in fondo alla cisterna? Esclamò il principe. Non ti ho lasciato ora in letto. No, è da stamattina che sono qua giù. Mi ha buttato una strega. Il principe fece subito tirar su la moglie. La strega fu presa e fu bruciata. Man mano che il fuoco bruciava, una mano, una gamba, un gomito, ecco che uno dei buoi tornava uomini e uno a uno tornavano uomini tutti, anche l'agnello. Tutti forti e robusti che parevano una compagnia di giganti avesse in bado il castello. Tutti forti e robusti che parevano una compagnia di giganti avesse in bado il castello.